Oh my goodness Sta qua, vieni Quanto c'è la posta qua? L'hotel, chiedi hotel È hotel, l'amfipalasse Terzo piano, hotel Vai a piedi, lo faccio tu Lei ci sta, sta qua Quanto c'è la posta qua? Ok, puoi aprire? Puoi aprire? Cliente L'informazione Very nice di Madero Hydraulic Ma in time by Di Mauro Eh, deve arrivare I GV Fixers White Too slow It goes And A-115-2000-2000-1S 4% of 1060 kg Inspected by Rina In via Corsica 12, Genova Now there are EGV black fixers Nice done by Di Madero Wow Wow Okay, nice air Grazie a tutti Grazie a tutti